buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vedremo due lenti di ingrandimento una da 15x è questa e l'altra da 10x adesso vediamo l'uso corretto dobbiamo avvicinarci all'oggetto appoggiamo l'occhio alla lente e dall'altra parte abbiamo l'oggetto da osservare adesso vediamo una lente da 10x e notiamo che il diametro di una lente da 10x è maggiore rispetto al diametro di una lente da 15x possiamo dirlo in un altro modo e diciamo che l'ingrandimento è inversamente proporzionale al diametro maggiore è il diametro della lente e minore è l'ingrandimento della lente della lente stessa qui vediamo una lente da 15x ne vediamo vicine la lente più piccola ingrandisce 15 volte stiamo indicando il diametro quindi questa è una lente da 15x mentre questa è una lente da 10x e da un diametro maggiore grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su youtube grazie e vi aspettiamo per un prossimo nostro video grazie 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 grazie